. Vuelta 2017, a Sagunt vince Marzinski. Contador attacca, Tade van Garderen. . Il polacco Tomas Marzinski si aggiudica la sesta tappa della Vuelta a Espana 2017, trionfando in una volata a tre sul traguardo di Sagunt, al termine di una lunga fuga. . Battuti in volata dal corredore della Lotto Soudal, il connazionale Pave Poljanski, Borans Grohe, e lo spagnolo Enric Mas, Quickstep Floros. In leggero ritardo Luis Leon Sánchez, Astana, e Jan Polánc, qua Emirates, ma lo spettacolo è offerto da Alberto Contador, Trex e Gaffredo. . . L'uomo dipinto attacca sull'ultima salita di giornata, il puerto dei Garbi, un gran premio della montagna di seconda categoria, mettendo in difficoltà i migliori della generale isolando la maglia rossa Shri's Froome. . 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 Seguono sin dalle prime salite. Ma è sul puerto del Garbi che la corsa si infiamma, davanti i polacchi Tomas Marzinski e Pave Poljamski vanno via insieme allo spagnolo Enric Mas, mentre nel gruppo dei migliori è Alberto Contador, Trex e Gaffredo, a mettere alla frusta i suoi avversari, dopo il solito lavoro del Team Sky. Il pistolero isola la maglia rossa Schriez Fromme, che rimane con in solo Gregario Vautepoels, stacca in un primo momento sia Esteban Chavez, o Rika Scott, che Vincenzo Nibali, Barahim Merida, e costringe allinseguimento lamericano Tejai Van Garderen, BMC, caduto nella discesa precedente. Il gruppetto dei big raccatta così per strada reduci della fuga della prima ora, eccezion fatta per i tre al comando, che mantengono un margine di vantaggio che consente di loro di giocarsi la vittoria di tappa. Successo che va a Tomas Marzinski, che in volata si impone di forza sul connazionale Poljamski e su Mas, in posizione troppo avanzata. Polank e Luis Leon Sánchez giungono con soli 8 secondi di ritardo, Barguil e Visconti vengono ripresi dal gruppo Maglia Rossa, sul quale si riportano praticamente tutti i ritardatari, eccezion fatta per Van Garderen, che cade anche nella discesa del Puerto de Garbí e cede una ventina di secondi, perdendo la seconda posizione in classifica generale a vantaggio del colombiano Chavez. Frome resta leader, ma Contador dimostra di voler sfruttare ogni metro di corsa per attaccare. Marzinski in 4 ore 47.02. LL Frome in 20 e 2 ore 54.38. Van Garderen a 30. De La Cruza 40. Marzinski in 4 ore 54.38. Van Garderen a 30. De La Cruza 40.38. Van Garderen a 30.000. Marzinski in 4 ore 54.38. Van Garderen a 30.000. Marzinski in 4 ore 54.38. Van Garderen a 30.000.